I ragazzi della Compagnia del Cuore gireranno la Toscana a bordo di un camper per raccontare i progetti di solidarietà internazionale realizzati in Niger, Filippine e Peru. È un'occasione importante perché così i ragazzi possono raccontare a chi ha fatto le adozioni o sostegna a distanza o chi ha sostenuto progetti qual è la loro comunità e come vivono e soprattutto ci portano un'esperienza importante dal punto di vista anche della globalizzazione che sono ragazzi che vivono una realtà diversa e che rispetto alla nostra cultura e alla nostra realtà possono rappresentare un momento importante della formazione anche dei nostri ragazzi. Ottanta gli appuntamenti che toccheranno argomenti scottanti come la piaga delle mutilazioni genitali o il lavoro dei minori raccontato da tre bambini lavoratori salvati dalla schiavitò. Si parlerà anche di diritto all'istruzione e di come i volontari lottino per sconfiggere la povertà e per scongiurare l'esproprio delle terre degli indigeni da parte delle multinazionali. Siamo fieri di questa collaborazione, di questa campagna perché ci permette di fare una mobilitazione fondamentale a livello internazionale contro le MGF, contro le mutilazioni genitali femminili e quindi siamo venuti qui a Firenze proprio con questo intento di portare avanti le nostre iniziative comuni.